Vi stupite ragazzi? Ma no, questi programmi esistono davvero, li seguite, li votate, li scegliete, forse ne sorridete, comunque li seguite. Il trash esiste ragazzi, il trash è attorno a noi, è la grande moda. E allora musica con E5 Let's Dance. Il trash ragazzi lo incontrate dappertutto, per strada, nei negozi, alle sfilate di moda, alla sera in discoteca. Ecco la discoteca, l'ultima trasgressione arriva da Firenze, nessuno ci aveva ancora pensato, una toilette con le pareti di vetro. Se fai la pipì ti vedono tutti, trash, trash, super trash e Lucigno l'è andato a vedere, ehi solo a vedere, vai Irene. Questa è la fila per entrare al Tenax, uno dei locali house più famosi d'Europa. Per entrare qui dentro bisogna essere, bisogna essere sempre stravaganti, un po' fashion, no? Originali, trasgressivi o se no fighetti. Ci piace la preparazione per poi entrare a una discoteca del genere. L'ultima provata per movimentare, notti originali l'hanno avuta qui. C'è un vetro tra il bagno delle donne e il bagno degli uomini. Si chiama WWC, WONDERFUL BUTTERCLOSED, un'attrazione dedicata ai voyeur, agli esibizionisti della notte. Un brivido trasgressivo, un cesso teatrino. Sì, io vedo loro, loro vedano me. Eh sì, perché uno può pensare che non ti vedono, invece ti vedono, perché come tu vedi loro, loro vedono te. Infatti guarda quanti sono. Ai livelli in cui mi scappa la più lì, forse sì, però non la forno. Ebbene sì, da un bagno delle donne vedi un bagno degli uomini e viceversa. Vedi, ma non senti. Comunichi e gesti. Ti esibisci o la fai, se ci riesci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sono per te le mie curiosità. Ciao a tutti. Mi vergogno, sì, non mi viene. Cosa pensa uno quando entra lì? Ho voglia di fare la pipì. Questo vetro e questo bagno, a cosa serve? No, a vedere. A vedere gli altri sì, a fare assolutamente no. Alle due si aprono le porte. Io fino alle due non la reggo. Se non hai il coraggio fai la fila per farla a porte chiuse. Ma nel tempio della stravaganza la tentazione è forte. Il VVC attira i curiosi per tutta la notte. Visto, visto. Non può muovo. È un grande posto. Chi viene qui lo fa per ballare house, conoscere gente, ma soprattutto liberare l'animale da palcoscenico che ha in sé. No, l'abbigliamento non sarebbe anche così estremo, se uno non si volesse fare guardare. Balli, sudi, ti scateni, poi magari ti piace qualcuno e gli dai appuntamento proprio lì, dopo le due, nel posto più segreto che c'è. Anche se il vetro è antisfondamento e romantico non è.